tornati a tutti i miei radioascoltatori a questa nuova puntata dedicata al gastronomo col baffo beh parliamo di nuovo di broccolo beh perché non farlo al gratin quindi dopo averlo sbianchito mi raccomando per azione molto importante quella della sbianchitura soprattutto per il broccolo verde come si fa facilissimo si prende dell'acqua si mette sul fuoco si porta a bollore si aggiunge un po di sale due minuti giusto per farli sbianchire e rimanere il colore dopodiché si scolano per bene e si buttano in acqua e ghiaccio si fanno raffreddare poi si utilizzano come meglio crediamo saltato in padello al forno come in questo caso quindi prendiamo i nostri broccoli li scoliamo per bene li buttiamo come detto prima in acqua fredda con ghiaccio acqua e ghiaccio li facciamo raffreddare li asciughiamo un po con carta gli scoliamo e li asciughiamo un po con carta assorbente dopodiché li utilizziamo prendiamo una teglia da forno mettiamo un po di bejamella sul suo fondo dopodiché aggiungiamo i nostri i nostri ciuffetti di broccolo di broccolo verde così di così il colore di mano è bello verde intenso dopodiché mettiamo dell'altra bejamella sopra un po di formaggio grana grattuzzato e via in forno a preriscaldato a 180 gradi per 10 12 minuti giusto il tempo di far amalgamare per bene il tutto e far cuocere il fare un pochettino anche il caso il perdonatemi il formaggio grattugiato lo facciamo gratinare volendo possiamo inserire anche dei cubetti di formaggio così da dare una nota anche fondente al nostro alla nostra preparazione di questi broccoli verdi al gratin a me non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata col gastronomo col baffo ciao a tutti